Il 21 giugno all'Aquila, nella giornata europea a lei dedicata, si celebra la festa della musica. Dalle 10 alle 23 nella sede del Conservatorio Casella, in vari luoghi eventi musicali, che vedranno protagonisti allievi e docenti del Conservatorio, ma anche i bambini della scuola dell'infanzia, ragazzi della scuola secondaria di primo grado e del liceo musicale, studenti e docenti, ospiti del Conservatorio d'Annunzio di Pescara. Le performance saranno di alto livello e tra un evento e l'altro sarà possibile conoscere la sede attraverso un percorso di visita del luogo e ci sarà anche un'esposizione di lavori di giovani artisti dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Nel pomeriggio l'Associazione Università per la Terza Età, in collaborazione con Feignarco e gli amici del Bel Canto, si esibiranno in Canto per Te, all'Auditorium del CSA, un progetto che nasce con lo scopo di portare la musica nei luoghi in cui si trovano categorie di persone che pur non avendo le possibilità, ascolteranno musica nei luoghi di ricovero. Ci sarà invece il coro della terza età che offrirà un concerto agli ospiti ma anche alla cittadinanza e anche qui questa cosa è altamente simbolica perché la musica diventa un momento non solo di aggregazione ma anche di valorizzazione dei nostri anziani. Si chiude alle 18.30 alla torretta nella chiesa di San Mario con il gruppo polifonico Quattro Quarti che celebra i due secoli che maggiormente hanno contribuito al repertorio di polifonia vocale a cappella e mentre il Comune pensa alla cultura il Ministero quest'anno probabilmente non finanzierà il Festival dei Cantieri dell'Immaginario un modo per riportare in centro la cultura che ha avuto molto successo negli anni passati ma l'11 luglio, assicura l'assessore, si parte lo stesso. Noi non siamo ancora certi del contributo e quindi abbiamo delle difficoltà come in genere tutti gli anni tuttavia il programma è pronto, il programma parte l'11 luglio quindi è un programma di qualità come tutti gli anni e siamo partiti ugualmente con l'impegno del Comune a intervenire economicamente se non ci fosse il contributo del Ministero perché pensiamo che i Cantieri dell'Immaginario siano state un'esperienza molto importante che non va persa in questa città e che va continuata.